Mentre la pugile si prepara a battersi nella semifinale, Maddalena Corvaglia decide di commentare la sua partecipazione alle Olimpiadi, scatenando nuove polemiche tra i suoi follower. La polemica sulla pugile intersex non si ferma. Dopo il mondo dello sport e quello della politica, il dibattito sulla presenza di Imane Khalif alle Olimpiadi in un torneo femminile viene commentata anche da influencer e personaggi del mondo dello spettacolo. L'ultima a mettere bocca sulla faccenda è stata la showgirl Maddalena Corvaglia, che in un video postato sui social media ha deciso di mettere bene in chiaro come la pensa. Le domande di Maddalena Corvaglia Se un uomo che si identifica in una donna ha il diritto di combattere alle Olimpiadi contro una donna, allora un bambino che si identifica in un adulto ha il diritto di guidare la macchina e acquistare bevande alcoliche. In che direzione stiamo andando? Te lo sei chiesto? Una serie di domande che Maddalena Corvaglia pone al suo spettatore e che tradiscono un punto di vista sulla questione non dissimile da quelli espressi ultimamente da altri personaggi pubblici come Elon Musk e Georgia Meloni. Dalle domande più ortodosse si passa poi a quelle più bizzarre come Se un anziano si identifica in un bambino di 4 anni e ha il diritto di essere trattato come tale, può accedere quindi all'asilo? Se una bambina si identidica in un Labrador e ha il diritto di essere trattata da Labrador, ha il diritto anche di andare al parchetto dei cani invece che a scuola? Situazioni al limite dell'assurdo che per la Corvaglia non sarebbero differenti dalla pretesa di Khalif di essere considerata donna pur essendo intersessuale. Le reazioni al video. Affermazioni forti, soprattutto quando vengono espresse sui social da una persona con oltre un milione di follower. Eppure, sembra che non tutti i suoi ammiratori la vedano come lei sulla questione. Prima che la Corvaglia chiudesse la sezione commenti del suo videosfogo, molti di coloro che hanno deciso di commentarlo lo hanno fatto per prenderla in giro o semplicemente per farle notare che, indipendentemente dalle opinioni personali di ciascuno, ciò che afferma non ha senso. Imane Khalif potrà anche avere un aspetto poco femminile, ma resta pur sempre una donna e pertanto non può essere trattata come un uomo che pretende di essere trattato da donna. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.